Ben trovati con Vita e Salute, benvenuti a Montecchio Maggiore presso l'unità operativa complessa di senologia diretta dal dottor Graziano Meneghini. Dottor Meneghini, ben trovato, ci troviamo all'interno della Breast Unit Berica, una realtà in fase di crescita che viene ad ampliare l'attività svolta dal centro donna e che permetterà alle pazienti con patologie legate alla mammella di essere seguite proprio a 360 gradi. Ho detto bene, dottor Meneghini. Certamente, noi con la Breast Unit prenderemo in carico, e stiamo già prendendo in carico ormai da qualche anno, tutte le pazienti con patologia neoplastica della mammella le prendiamo in carico dal momento della diagnosi, al momento della cura, al momento della riabilitazione e fino anche al loro reinsedimento sociale. Quindi siamo proprio in un'area che sta venendo completata, quando sarà più o meno attiva? La Breast Unit è già attiva da qualche anno, come ho detto prima, circa 7 anni. Adesso questa è la Breast Unit Berica, quindi si è un po' più grande rispetto a prima. I lavori sono già terminati praticamente, credo che ci trasferiremo qui, potenziando quindi tutto il centro, nel giro di una settimana, 10 giorni. Quindi manca poco, ma intanto parliamo quindi dell'attività del centro donna. Qual è l'attività? L'attività del centro donna, come dicevo prima, è di fare delle diagnosi precise, delle terapie personalizzate, dei piani terapeutici personalizzati nei confronti dei pazienti che sono state colpite dal cancro della mammella e quindi programmare per loro tutto un piano per poter vincere questa sfida che è la guerra al cancro della mammella con tutti quegli presidi che oggi sono idonei per poter raggiungere questo obiettivo. Quello che è importante oggi è che le terapie sono sempre più personalizzate e quindi queste pazienti necessitano di essere seguite in un centro adeguato proposto proprio al fine di poter dare loro quelle che sono le cure più idonee per poter raggiungere e vincere questa guerra contro il cancro. E quindi a questo punto parlerei anche dell'equip medica da che è costituita? L'equip medica è costituita da un core team in cui ci sono tutti i medici completamente dedicati, sia quindi chirurghi e senologi, abbiamo anche personale infermieristico dedicato e in più abbiamo tutta una serie di multidisciplinarietà che vanno dai psicologi al fisiatri, agli oncologi, ai radioterapisti, agli anatomopatologi, alla medicina nucleare, quindi tutto un insieme di modo multidisciplinare, c'è una task force che si dedica proprio per curare al meglio la persona. Più o meno quante pazienti all'anno seguite? Noi seguiamo le pazienti qui nel nostro centro non solo per patologia neoplastica ma anche per patologia benigna e anche dal punto di vista ginecologico, quindi avevamo detto da 360 gradi con le visite ginecologiche, con gli screening, abbiamo fatto un conto e ci sono intorno ai 10 mila donne ogni anno che arrivano qui da noi. Grazie